Il Tar ha di nuovo accolto le criticità che noi eravamo quasi convinti, lo si sa solo quando danno la sentenza, che non c'erano i presupposti per poter mandare avanti quello che mi ha dato fastidio è l'imposizione di come sono iniziati i lavori senza aspettare che il Tar desse una sentenza, oggi hanno fatto uno scempio dove dovranno ripristinare la viabilità e quindi prendiamo atto di tutto e nel frattempo non molliamo di un minuto il fatto che si debba ripristinare la strada. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che stanno anche verificando il cantiere, la regolarità. Esatto, le regolarità che ci sono, il modo di cui hanno preso queste basole storiche di 300 anni fa quindi non era il modo di prendere queste basole architettoniche monumentali né come si sono state prese né come sono state scaricate, quindi alcune sono state rotte, penso che voi abbiate anche le riprese e si vedrà, saranno loro poi a decidere.